Per la tecnologia più avanzata della lavorazione di banconote da tavolo, prestazioni più rapide, livelli superiori di controllo dei falsi e percentuale inferiore di richiuto banconote, affidatevi allo scanner di banconote JetScan IFX-I100 di Cammin Cellison, leader sicuro nella tecnologia di gestione di denaro riconosciuto a livello mondiale. Lo scanner JetScan IFX legge banconote in modo accurato la prima volta, riducendo enormemente il tempo perso a causa delle interruzioni di macchina. Più veloce anche di uno scanner con un cassetto e mezzo. I100 ha prestazioni superiori del 20% rispetto ai nostri scanner leader di mercato, per una maggiore produttività e costi operativi ridotti che migliorano il risultato ultimo. Gestione depositi di tagli misti, con velocità di lavorazione fino a 1600 banconote al minuto. JetScan IFX lavora più velocemente ed efficientemente. Con sensori infrarossi a larghezza intera, per il livello più alto di controllo dei falsi, disponibile in un prodotto da tavolo economico. Risultato, un funzionamento più sicuro. Identificazione più veloce di sempre con meno interruzioni, anche con banconote di scarsa qualità. Gestione della lavorazione della mazzetta o del fascio. E calcolo più attendibile dei valori della transazione, con intervento ridotto dell'operatore. Come parte di una piattaforma pronta per il futuro e ricca di funzioni, che ridefinisce la lavorazione di valuta e documenti. JetScan IFX è il primo scanner di banconote da tavolo a offrire un'acquisizione di numero seriale ad alta velocità e un'archiviazione database immediata, facilitando l'acquisizione e il recupero di documentazione di deposito in formato elettronico completa. Le macchine della generazione precedente impiegavano lo stesso tempo solo per eseguire l'identificazione. Le macchine JetScan IFX consentono di aggiungere nuove funzioni e funzionalità nel momento in cui vengono sviluppate, per rispondere alle esigenze attuali con il migliore valore prodotto e proteggere gli investimenti di pari passo con l'evoluzione delle esigenze. I prodotti Cummins Ellison sono progettati e realizzati rispettando i più rigidi controlli di qualità e standard mondiali di velocità, accuratezza e affidabilità. Il servizio assistenza è uno dei più reattivi ed è molto stimato nel settore. Visitate Cummins Ellison.com e scegliete la vostra soluzione di gestione di valuta JetScan IFX.